Ciao a tutti, oggi siamo nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, siamo a Trentinara ed è un piccolissimo borgo di 1600 abitanti a 600 metri sul livello del mare che vedete lì alle nostre spalle. Andiamo a visitare un'azienda nata qui a Trentinara da poco, da due ragazzi giovanissimi che hanno investito sul loro territorio, benché abbiano degli studi autorevoli, però in qualche modo vogliono valorizzare quello che è presente nel loro territorio. Tra l'altro Trentinara è anche il burgo del pane, qui si fa una festa ogni anno, molto frequentata da tantissimi campani, proprio su un'eccellenza di Trentinara che è il pane. Cilento e Tradizione nasce nel settembre del 2013, ci troviamo a Trentinara, paese conosciuto come la terrazza del Cilento e qui ormai dieci anni fa abbiamo deciso di investire insieme a mio fratello, insieme a un'attività familiare, partendo dalla valorizzazione di un prodotto in particolare che è il figo bianco del Cilento e quindi abbiamo ripreso alcuni nostri terreni dove facciamo la raccolta e poi la successiva essiccazione, trasformazione del prodotto del figo bianco. Nel tempo chiaramente abbiamo allargato le nostre produzioni, abbiamo aggiunto la biscotteria tipica, abbiamo aggiunto una pralineria ricercata, sempre molto di nicchia, rispettando quello che era il nostro obiettivo principale, che è quello di fare un prodotto di qualità e contestualizzando anche quello che è il territorio di riferimento, che è un piccolo borgo accogliente, grazioso e carino. Da ultimo nel 2019 l'apertura di un nuovo spazio, prendendo spunto da una festa importante che si fa ormai da 17 anni a Trentinara, che è la festa del pane e quindi il recupero di varietà antiche, grano duro e una lavorazione artigianale del nostro pane, chiaramente lievito madre, cottura in forno a legna, che gli assicura oltre ad una qualità particolare anche una lunga conservazione. Il luogo invece dove stiamo parlando in questo momento sottolinea ancora un po' una tappa di crescita, a maggio del 2022 insieme ad un'altra attività artigianale di Trentinara abbiamo deciso di aprire questo spazio espositivo nel centro del paese, bottega di prodotti tipici, non solo i nostri ma anche di altre aziende di Trentinara e del Cilento, dove poter fare anche delle degustazioni con prodotti tipici locali.